Doveva essere solo il consueto momento conviviale di fine anno per gli sbandieratori della giostra del Saracino, ma la location della cena augurale nel salone della sede storica di Nuova Banchetruglia in Corso Italia ha acceso le polemiche. Comprensibile forse da parte di risparmiatori che hanno perso tutto, un po' meno da chi cerca di strumentalizzare la vicenda. Tra i commenti più forti quello di Letizia Giorgiani, presidente dell'associazione Vittime delle Salva Banche che pubblicando su Facebook le immagini della cena scrive, qualche giorno prima chi ha perso tutto per avere riposto i suoi risparmi in questa banca era costretto la vigia di Natale a sfidare il freddo in un corteo, all'interno invece si fa ancora sfarzo di lusso e soldi. Di chi? Non c'è mai fine al peggio, conclude la Giorgiani, poi mi piacerebbe conoscere il progetto menageriale di marketing degli attuali amministratori. Dispiace solo che in mezzo a queste polemiche siano stati risucchiati gli sbandieratori che ogni anno portano in alto il nome di Arezzo che nulla c'entrano con tutto questo. D'altronde nuova Banca Etruria ha fin da subito sostenuto la giostra del Saracino e la sede storica al di là delle vicende e delle responsabilità passate rimane un luogo simbolo della città. Si può forse chiedere per gli errori del passato di non organizzarci più niente nel presente e nel futuro? Forse non è questo il terreno giusto per i risparmiatori per ottenere quanto perso. Era solo un momento per stare insieme da parte di una delle componenti fondamentali della giostra.